Dal Vangelo secondo Luca In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli Sono venuto a gettare fuoco sulla terra e quanto vorrei che fosse già acceso Ho un battesimo nel quale sarò battezzato e come sono angosciato finché non sia compiuto Pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, io vi dico, ma divisione D'ora innanzi, se in una famiglia vi sono cinque persone saranno divisi tre contro due e due contro tre Si divideranno padre contro figlio e figlio contro padre madre contro figlia e figlia contro madre suocera contro nuora e nuora contro suocera Grazie 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 Grazie